Il nostro salotto di anima d'autore si anima, è il caso davvero di dirlo un'altra volta con un altro lietissimo incontro, anzi rincontro anche in questo caso perché ci è venuta di trovare un amico che però insomma da quando ci ha lasciato l'ultima volta ha prodotto tanto e quindi insomma ci viene a raccontare un nuovo pezzetto della sua storia artistica. Come sempre ad accompagnarmi in questi incontri, in questi viaggi l'amico Alessandro Ramberti, bentornato Alessandro. Grazie Simona per accoglierci. È un piacere averti qua perché davvero tu sai toccare particolarmente le anime dei nostri autori anche perché in contanti c'è anche una grande amicizia ed è bello pensare come la letteratura, l'arte, la poetica possa anche far incontrare le vite delle persone che forse è il regalo più grande. Grazie a te che hai reso questo spazio, un giardino come avevamo detto qualche tempo fa. Allora con noi oggi è Stefano Maldini che è nato Cesena nel 72 e sin da ragazzo ha amato viaggiare e scrivere. Dopo la laurea con Ezio Raimondi ha collaborato con il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna e con gli editori Mondadori e Touring Club per i quali ha curato diverse guide. Da circa dieci anni inoltre lavora in prima linea come insegnante. Ha pubblicato la raccolta di poesie Luce instancabile Raffaelli 2005, l'antologia Foglie di luce dal mare Forlì Cartacanta 2011, tratta dall'omonimo spettacolo ideato insieme Federico Marchese. Sarà questa la vita stampa a tiratura limitata impressa da Giampiero Guerri con traduzioni di Tolmino Baldassarri e incisione originale di Massimo Pulini. È appena uscito per i tipi di Raffaelli il suo ultimo libro di poesie La festa di un giorno normale. Inoltre mi ha da poco detto che sta ultimando il suo romanzo e ci darà una chicca cioè l'incipit appunto di questo suo romanzo. Un super inedito. Un super inedito. Quindi Stefano ti lascio la parola da dove vuoi partire? Mi piacerebbe partire dal racconto dell'esperienza che mi è successa riguardo al rapporto con la poesia e con la scrittura in particolare. Cioè mi sono accorto che il rapporto con la scrittura nel mio caso ha veramente seguito il percorso della mia anima. Perché a un certo punto della mia vita dopo essermi dedicato alla poesia mi sono accorto che avevo bisogno di un altro tipo di ritmo, di un altro tipo di respiro per raccontare un altro tipo di storia e quindi piano piano ho dovuto imparare un'altra lingua, un altro linguaggio, un altro ritmo di scrittura e quindi ho cominciato ad assaporare il gusto della narrativa. Per me è un'esperienza completamente nuova che mi ha ridato un'immagine diversa anche della mia anima. Mi sono accorto che la poesia in qualche modo ha a che fare con la verticalità dell'essere, con il bisogno di arrivare alle radici dell'esperienza. È un'esperienza veramente conoscitiva, assoluta, che in qualche modo schiaccia la dimensione della prospettiva della vita, fa vivere e in qualche modo cerca di analizzare ogni momento, ogni aspetto, ogni frangente della vita in tutte le sue sfumature, in tutte le sue dinamiche, come se volesse carpirne il segreto. Questa dimensione che è straordinaria ed è un'esperienza credo tra le massime conoscitive che un uomo possa fare, tuttavia è come se nel mio caso non desse risposta a un'altra esigenza che cominciavo ad avvertire, cioè quella di mettere in prospettiva certe esperienze e certe dinamiche. E quindi in qualche modo ho trovato nella scrittura del romanzo, che ancora fra l'altro è inedito, proprio questa risposta, questa nuova prospettiva. È come se in qualche modo scrittura e nuova dimensione dell'anima si accompagnassero nella mia vita, per guardare all'esperienza del mio percorso da un'altra prospettiva ho avuto bisogno di trovare un altro stile e un altro genere di scrittura. D'altra parte Stefano però l'esperienza della poesia che è molto essenziale, molto proprio tocca davvero l'anima della parola, probabilmente ti aiuta anche in una parola che poi invece nel romanzo e quindi più di narrazione che comunque mantiene questa sua esperienza iniziale. Sicuramente la parola poetica è una parola che educa in generale a ogni forma di parola, ma non c'è dubbio che quando ci si occupa di poesia e quando si ha tra le mani la parola poetica e quindi si lavora come un artigiano, lavora il legno, lavora la sua materia, la sensazione è che la parola vada tirata fino alle sue estreme conseguenze. La parola assume una dimensione potentissima, assoluta e questo sicuramente permette di avere una sensibilità al ritmo, all'utilizzo della parola, alla forza della parola, una raffinatezza sicuramente nel maneggiare le parole che serve in qualsiasi altro contesto, però io almeno nella mia esperienza ho avvertito che la parola poetica veramente per sua quasi costituzione cerca il rapporto con l'assoluto, con qualche cosa che sfonda la dimensione del tempo, invece io ho sentito a un certo punto del mio percorso il bisogno di confrontarmi con la dimensione del tempo e anche in qualche modo della progettualità, la poesia come in tanti hanno poi raccontato non prevede questa dimensione, la poesia è veramente una scoperta che sale dal mistero, spesso un poeta si accorge e scopre la verità di quello che ha vissuto dopo tanti anni, è come se appunto aprisse le mani, lo diceva Piero Bigongiari, aprisse le mani e ricevesse un materiale incandescente in cui deve essere come un perfetto orafo e quindi deve riuscire a portare questo materiale a un compimento, a una forma che sia poi depositabile, che sia comunicabile, ma veramente resta un grande mistero per lui, per lo stesso autore. Invece a un certo punto della mia vita e quando avevo esplorato questa dimensione, questa dimensione mi aveva già cominciato a dare risposte e credo che continuerà a darmene nella vita, ho avvertito la necessità di esplorare un'altra dimensione che è quella della dinamica che si muove nel tempo, nella linea del tempo, quella proprio della progettualità, anche della dimensione del futuro che mi sono reso conto non era sganciabile da quella del passato, forse una dimensione che ha a che fare più con l'umanità che con l'eternità, se vogliamo dare comunque alla parola eternità un significato laico chiaramente, forse più legato al tema della memoria, quella memoria che in qualche modo la poesia ha l'ambizione di, come dire, fecondare e di lanciare nel tempo a tutti gli uomini e a tutti gli spazi. Che però è molto bella questa immagine di un verticale che squarcia il tempo proprio in questa dimensione verticale della poesia e poi di questo orizzontale, quasi due dimensioni che hanno necessità poi foralmente anche di incontrarsi nella nostra vita, nella nostra esperienza. È certo, assolutamente. Io farei una cosa un po' al contrario oggi Alessandro perché a questo punto noi solitamente diamo un'opera edita ai nostri autori, invece visto che Stefano è voluto partire proprio da questa ultima sua esperienza più di narrazione, di romanziere, non so, visto che Alessandro ci diceva che magari potresti leggerci magari un passaggio, raccontarci magari qualcosa di questo romanzo che stai creando, che sta prendendo corpo dentro di te e dentro anche la parola. Ah c'è proprio già un testo. Sì, abbiamo un manoscritto tra le mani, sì sì sì. Allora, beh, quello che mi piace raccontare di questo manoscritto è che mi è capitata una cosa particolarissima, che non mi era capitato con nessun altro testo. È un libro che è cominciato a vivere prima ancora di essere pubblicato, nel senso che è un libro che in qualche modo va a pescare nella mia esperienza personale. Io ho vissuto sin da bambino un'esperienza molto particolare, cioè il mio unico fratello maggiore sin dalla nascita ha avuto una grave disabilità e quindi questa esperienza ha accompagnato tutta la mia vita, soprattutto nella prima parte, la vita che ho vissuto in famiglia e mi ha chiaramente posto tantissime domande e soprattutto mi ha fatto, mi ha lanciato diciamo delle sfide e mi ha fatto vivere dei percorsi direi molto particolari. Ho avuto bisogno di molto tempo per confrontarmi dal punto di vista letterario con questo tipo di esperienza e soltanto dopo vent'anni diciamo in cui, dopo vent'anni dal mio, alla mia partenza dalla mia famiglia, quindi più o meno ho avuto bisogno che passasse un tempo analogo a quello passato in famiglia, ho trovato un equilibrio credo anche stilistico per poter raccontare questa vicenda. Non volevo che questa vicenda fosse raccontata soltanto con rabbia, neppure soltanto con una facciata in qualche modo di buonismo. Purtroppo nel mio percorso di conoscenza anche di questa esperienza ho incontrato persone, ho incontrato punti di vista che non mi hanno soddisfatto perché in qualche modo mistificavano questa esperienza oppure diciamo la guardavano soltanto con occhio cinico. Io avevo bisogno di trovare un punto di vista che mi permettesse di guardarla con equilibrio e che mi desse soprattutto una prospettiva personale. Quindi ho cercato in questo libro di alternare denuncia sociale, di alternare esperienza personale, sguardi miei a sguardi di altre persone che hanno attraversato con me questa esperienza, anche con sguardi di persone che io non ho mai conosciuto direttamente. È stato un lavoro che ha coinvolto anche un aspetto di ricerca storica, di documentazione medica e di interviste, incontri con persone diciamo che hanno fatto parte della vita della mia famiglia anche quando io ero molto piccolo e soprattutto avevo bisogno anche a livello stilistico di trovare una certa leggerezza di stile. Quella distanza che non significa mancanza di partecipazione ma significa appunto uno sguardo lucido, uno sguardo lucido, affettivamente coinvolto ma non in qualche modo diciamo prigioniero. E non troppo autoreferenziale. Non troppo autoreferenziale. Se volete posso leggere l'incipit di questo libro, appunto dicendo che questo libro ha già cominciato la sua vita prima ancora di essere pubblicato perché in realtà credo l'importanza di questo lavoro al di là della qualità letteraria insomma che poi i lettori, gli editori valuteranno, credo che abbia un valore anche dal punto di vista sociale. Questo lo dico perché mi è capitato di essere stato invitato a un convegno dedicato ai fratelli dei disabili, uno dei primissimi in Italia, un argomento di cui ancora si parla pochissimo. Anche in letteratura scientifica non c'è quasi nulla e mi sono accorto avendo un pubblico soprattutto di familiari, genitori, persone che si muovono nell'ambito dell'assistenza, quindi insegnanti, assistenti sociali, psicologi, mi sono accorto che ancora esistono tantissimi tabù da infrangere. Io credo che questo libro nel suo piccolo abbia avuto questa forza perché prima di infrangere a livello letterale sono tabù che io ho cercato di infrangere dentro di me e quindi credo che abbia una forza questo libro perché racconta in qualche modo una ricerca di verità. Il primo capitolo, il titolo è Boom Morto, che è anche il titolo del primo capitolo e comincia così. Boom, morto, sotto il treno. Andrea oggi è in buona, mi ha fatto morire in 448, senza inutili sofferenze. Non ha strepitato, non ha fatto i soliti melodrammi per il pubblico condominiale, non si è picchiato sul volto fino a farsi sanguinare il naso. Mi ha accolto augurandomi la morte secca e per di più una volta sola, il minimo sindacale, giusto per chiarire come stanno le cose. D'altronde anch'io ho le mie colpe. Sono andato a trovare lui, mio padre e mia madre, senza neppure avvisare. Non ha avuto neanche il tempo di preparare una strategia efficace di elaborare la solita difesa preventiva, volta ad evitare l'incontro col nemico. Sono riuscito a stare sulla soglia di casa quasi 5 minuti, rassicurandolo che stavo già andando via. In pratica ero già fuori dal portone. Dai, alla fine è andata bene. Meraviglioso l'inizio. Allora, se questa è la premessa, intanto auguriamo veramente a Stefano di trovare un editore che almeno ci permetta di leggerlo anche, però invece passiamo anche a qualche cosa che hai edito ultimamente, sei veramente pieno di risorse Stefano. Questo bel libro che ho tra le mani, tra l'altro con delle illustrazioni che vorrei poi ci raccontarsi anche un po' come accompagnano le tue parole. Poi hai anche un altro testo tra le tue mani che poi, se avremo tempo, spero anche potrai leggerci qualcos'altro. Inizia tu da quale ti piace di più. Allora, direi che il romanzo di cui abbiamo letto adesso, l'incipit, è stato l'ultimo lavoro che ho fatto e ho impiegato gli ultimi due anni del mio lavoro per questo romanzo. Negli anni precedenti si sono intracciati due percorsi. Il primo è un percorso, esclusivamente poetico, che ha accompagnato gli anni successivi all'uscita di Luce Instancabile, il libro che ho presentato qui da voi qualche anno fa, che ha confluito poi in questa pubblicazione recentissima, La festa di un giorno normale. Sono poesie appunto che raccontano il passaggio da Luce Instancabile al romanzo, in qualche modo. E quindi sono poesie che cambiano ritmo, cambiano prospettive, in qualche modo. Mi domando ancora oggi, visto che la poesia rilascia le sue risposte soltanto nel tempo, ancora non posso dare una risposta sicura. Mi domando ancora oggi se questo libro sia in qualche modo una parte del mio percorso che era rimasta ai margini di Luce Instancabile o in qualche modo sia già un germoglio di una poesia che nascerà e continuerà dopo il romanzo. Sicuramente è un libro che racconta di un passaggio, di un passaggio dalla dimensione, come dicevo prima, dell'eternità, una dimensione più temporale, più prospettica e sicuramente legata più che all'elemento dell'acqua che era dominante, nonostante il titolo, Luce Instancabile, dell'altro libro, all'elemento della terra. Questo è legato a un fatto anche personale. Io ho cambiato la mia residenza, ho cambiato il mio lavoro. Prima abitavo proprio sul mare, mentre sono tornato a vivere vicino alla mia terra d'origine, vicino a Cesena. E quindi sicuramente questo libro è un libro più carico degli umori di una terra collinare, di una vita cittadina, sempre accompagnato dai miei viaggi che costellano comunque questo percorso. Mentre invece Foglie di Luce dal mare ha un percorso completamente diverso. Foglie di Luce dal mare parte da tanti anni fa, dal mondo universitario, quando io conobbi questo pittore, scenografo contemporaneo, Federico Marchese, e lui decise di illustrare con 16 dipinti alcune poesie che poi sono confluite nel libro Luce Instancabile. Da questo dialogo fra immagini e parole è nato uno spettacolo che abbiamo portato in giro per la Romagna. Sono nate mostre a Casa Moretti e ospitate da altre istituzioni della nostra regione. È nata una collaborazione con dei musicisti, è nata una collaborazione con degli attori, per esempio l'attore Ilario Sirio, l'attore Sergio Scarlatella. Quindi diciamo che è stata un'esperienza di dialogo e di approfondimento del rapporto tra le arti e delle relazioni tra le varie forme d'arte. Forse è stato un lavoro che mi ha anche preparato al romanzo in qualche modo. Per questo lavoro ho scritto dei monologhi inediti, diciamo quindi la novità di foglie di luce dal mare rispetto ai testi che sono stati, che erano conflitti in foglie di luce in luce instancabile e sono questi monologhi. Lei legge uno Stefano? Preferisci invece leggere la festa di un giorno normale? Posso leggere magari un breve testo della festa di un giorno normale e poi magari chiudiamo con un monologo. Allora, leggo il testo conclusivo della festa di un giorno normale che racconta di questi viaggi nel mondo della parola. Sgusciamo insieme, tu dalla malinconia, io dalle interpretazioni. Se ti recito ti accolgo, la distanza non si sfuoca e il corpo che mi parla è un'altra lingua. leggo a questo punto anche il monologo conclusivo di Foglie di luce dal mare. Magari ci fai vedere anche l'immagine abbinata. Questo per esempio, facciamo vedere la copertina, questa è l'immagine di copertina, sono 16 dipinti su una carta particolare, una carta ambrata dell'Ottocento, fatti con terre, sono veramente opere uniche che sono state appunto esposte già in diverse occasioni e che raccontano momenti diversi dell'esperienza della vita, dalla nascita alla morte allo sguardo femminile, al tema della paternità e che in qualche modo attraverso questo viaggio che percorre tutte le tappe dell'esperienza umana e cerca di spiegare anche il viaggio dell'opera d'arte, cerca di spiegare anche l'esperienza dell'arte, della poesia. Si domanda che cos'è la poesia, perché l'uomo in qualche modo l'ha sempre inseguita. Leggo appunto il monologo che conclude questo percorso. La poesia, la musica, le immagini parlano la lingua del mondo, si espongono al vento dell'esistenza, guardano e ascoltano le voci delle montagne, delle colline, delle strade, quelle fuori e quelle dentro di noi. Tengono insieme tutto, il bianco come il nero, la luce come il buio, l'odio come l'amore. Toccano la nostra piccola storia nel suo profondo e così scoprono il centro del mondo, cercano le cose del mondo e trovano la nostra natura. È l'acqua della vita quella che attraversiamo, mentre cerchiamo di ascoltare e di comprendere. È lei che alimenta le note, le lettere, i colori e questi segni scorrono, questi segni diventano il nostro canto. Come si accende e sfavilla questo incontro nel silenzio tra noi e il mondo, la nostra e la sua lingua, non lo sappiamo. Cosa succede in quel momento? Neanche. È accaduto una cosa nuova e non c'è niente che sia avvenuto prima che possa fino in fondo spiegarlo. Come quando ci innamoriamo. E in questo faccia a faccia, senza preavviso, ci sentiamo risuonare così, come se il nostro corpo si accordasse al ritmo di una grande orchestra. Allora ci affanniamo, ci diamo da fare come matti, cerchiamo di lavorare con la massima precisione, tendiamo come archi i nostri strumenti, i linguaggi, perché questa consapevolezza, questo miracolo, questa energia così personale, insieme così universale, si depositi in un'opera d'arte, un oggetto concreto e resti lì, come una casa che si può visitare anche senza di noi. Grazie a Stefano Maldini, che appunto salutandoci, magari ci fai vedere anche un'immagine interna del libro. Grazie veramente Simone. La idea dell'opera d'arte è come una casa da visitare anche senza che noi ci siamo. Speriamo che presto il romanzo di Stefano diventi una di queste case, e davvero siamo molto contenti di essere qui con noi, e soprattutto ti auguriamo in bocca al lupo. Alessandro, noi torniamo, prossima puntata di Anima d'Autore. Grazie davvero Stefano. Ciao a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti.